Temptation Island, Alessio e Natasha tornano insieme, lui fa una promessa al falò Temptation Island 2021, Alessio e Natasha scelgono di uscire insieme, lui fa una promessa al falò L'ultimo falò di Temptation Island è stato quello della coppia più tranquilla di questa edizione, sulla quale sostanzialmente non è successo nulla Alessio Tannoni e Natasha Zagato I due sono stati la coppia con meno problemi da risolvere, in cui non è mai mancato veramente il rispetto reciproco Non stupisce quindi che Alessio e Natasha dopo il falò di confronto a Temptation Island hanno scelto di uscire insieme e di dare una seconda chance al loro rapporto A colpire oltre alle dichiarazioni della Zagato è stata anche la promessa che Alessio ha fatto davanti a Filippo Bisciglia Io qui ho capito tanto ma mi sono reso conto che la sua presenza è importante Decido di tornare con Natasha e non ripeterò più gli errori che ho commesso Alessio a Temptation Island, Natasha si difende, ho paura che questo percorso non è servito A decidere di partecipare a Temptation Island è stata Natasha Zagato perché si sentiva trascurata dal suo fidanzato e soprattutto costantemente giudicata Al falò di confronto la ragazza ha confessato Questo percorso non è servito, io lui l'ho pensato ma sento che lui mi vuole diversa ed io devo prendere una decisione Io qui mi sono sentita speciale, rispettata e corteggiata Ho paura di ritornare a casa e ricominciare tutto da capo Da parte su Alessio Tanoni ha ribadito, sento solo scuse e carattere dove ce l'hai Non si gioca con i sentimenti preferisco perderti Natasha e Alessio escono insieme da Temptation Island, lei delusa per non aver mai visto un video del ragazzo Nella puntata di ieri Natasha ha fatto una gesto inaspettato, oggi al falò di confronto si è detta delusa per non aver mai visto un video del fidanzato Natasha e Alessio di Temptation Island stanno ancora insieme